In totale che siete impegnati oggi nelle varie categorie, qui sei entrati a Gudi, Cambia, abbiamo il comando, Sergio Benzio, Comparadiso, Cerogeo, 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 sono presenti a questa prova, volevo sia come campionato Cannabis Anomistico, come campionato regionale, sia assoluto, sia individuale che di società. Hanno studiato bene, hanno studiato bene. L'hanno studiato bene. Adio! Guarda guarda. 你看! Adiano! Adii, Adri, Adri! Gabrielo! Noi Walter, doiii! Durbano, 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 Durbano! Walter, Walter! Dio ma che falsa. Che falsa, falsa. Dai Enzo, dai. Enzo. Dai, Linò. Dai. Dai. E' lo stesso. Dai dai. E poi arriamo di qua. Arrivali in tre. Sì. 7 minuti Sulla maglia per il numero, sulla maglia Vai, vai Donato, numero, numero donato Su, su Mentre subito al comando, l'inglese della Valtubella, Edwin Young, al 22esimo concordia al campaccio Young e Sabine Vedo che hanno quasi 200 questi partenti Sì, è corretto, ma ci vuole il miglior Sì, è corretto Tutturalmente numerosa Tutturalmente la più numerosa questa batteria Tutturalmente la più numerosa questa batteria Tutturalmente si va dai 17 anni fino ai 49 Allè, dai, dai, dai Voi, vanno, vanno Pagliano lo dai così! Pagliano! Fiorezzo! Damide! Bravo Damide! Vai scendere! Scendere dai! Bravo Giro! Che gua parte! Che gua parte! Pagliano, che gua parte! Bravo Giro! Bravo Giro! Bravo Giro! Vai fai più! Vai fai più! Bravo Giro! se sapevo le tenevo ancora adesso vado a cambiare ho voluto fare due foto bello che faccio le foto e poi mi dimentico di scaricarle però prima o poi lo farò dai 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 Danilo come detto dalle 11 inizia l'applicazione e Bianco Bruno come al solito in testa Carlone vai Elisa vai Elisa le donne ce la Plavale giro della Valpellice esperta nei pai dai cosa fai ci sono le due sorelle Young alla fine ciao forza bambine grazie vai Sarah su brava brava bravo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.